Sono passate due settimane dall'ultimo messaggio ai gravellonesi. Nel paese il virus ha rallentato molto la sua diffusione. La gente più attenta usa le mascherine, tiene le distanze. Sono stati distribuiti i buoni alimentari ad una popolazione prevalentemente dignitosa. Non c'è stato l'assalto degli scrocconi come in altri paesi anche se si sono certo differenze di bisogni e di sincerità nelle varie dichiarazioni. Il gran lavoro organizzativo per i buoni è stato portato avanti dall'assessore ai servizi sociali dottor Luciano Garza che appena uscito dalla quarantena. Si è messo subito a disposizione della gente. Grandissimo anche il lavoro organizzativo e di animazione che è stato portato avanti dalla vigilessa, sempre presente, che coordina i volontari che fanno servizio a domicilio per malati anziani. C'è veramente nell'aria un entusiasmo, una disponibilità e una solidarietà di molti che riscalda l'animo. Ci sono addirittura più volontari che hanno dato disponibilità di quanti hanno trovato modo di aiutare. Altra gente spontaneamente raccoglie pacchi alimentari. Sono arrivate molte mascherine chirurgiche. Le offerte in cambio delle mascherine vengono destinate ad alleviare i guai economici dovuti al blocco del lavoro. Sono una goccia nel mare, nel mare dei bisogni. Ma il mare è fatto di tante gocce. Avrete notato che il paese è pulito nonostante la mancanza dei cantonieri. Volontari a due a due con badile, paletta e scopa puliscono le strade e tolgono l'erba che era cresciuta. Hanno capito e stanno facendo capire con la loro presenza che il paese è la casa di tutti. Ora che è stato pulito da gravellonesi volonterosi e orgogliosi del loro paese vorrò vedere con che coraggio altri gravellonesi proveranno a sporcare. I volontari sono operai e laureati, studenti e dirigenti e hanno visto tutti quanta fatica si fa per tirar su uno per uno i mozziconi di sigaretta, oltre alle altre sporcizie. Nei paesi civili chi fuma si porta una scatoletta portacenere personale e la svuota eventualmente nei cestini. Avete notato intanto che i cestini sono aumentati di numero e sono puliti tutte le settimane da un volontario che fa il giro. Ora aumenteremo anche i posaceneri. Facendo due volte alla settimana volontariato per l'apertura della discarica ho notato che la gente viene ordinate, paziente e differenze e rifiuti. L'affluenza alla discarica si è moltiplicata per quattro perché le famiglie approfittano del tempo vuoto per fare pulizie. quanto si butta via. Altri volontari stanno facendo manutenzione al parco. Le piante del parco in vent'anni sono cresciute, qualcuna muore e moltissime piantine spontanee invadono dappertutto. Chi ha un giardino può immaginare quanto lavoro ci sia al parco. Stiamo approfittando del virus epidemico per prendere delle buone abitudini e per capire che veramente il paese è la casa di tutti e noi vogliamo averne cura. Presto inizierà la fase più difficile, fare ripartire il lavoro in quei settori che sono stati ferocemente castigati. Intere famiglie che prima non avevano problemi economici sono andate a reddito zero e non sanno come pagare bollette, mutui eccetera. Sarà compito anche di tutti noi, comune e privati, non fare finta di niente. È chiaro che il compito principale è dello Stato, dell'Europa e anche delle regioni. Almeno smettessero di ostacolare e parassitare il lavoro con tutti i loro regolamenti, tassazioni, complicazioni, proibizioni. Molti chiedono, e sarebbe ottima cosa, che nella fase della ripresa ci fosse una gestione omogenea dei test sul sangue e dei tamponi. Che dicano con sicurezza, se uno è ancora infettivo o no, se è a rischio o no, per sé, per i colleghi, per i suoi cari, per i nonni. Molte sono le ditte che propongono. Fai il mio test, è il migliore. No, prendi il mio. L'unico test validato ad oggi, quello della ditta di Asorin di Saluggia, non è per ora disponibile per tutti. Dobbiamo ancora pazientare perché comunque i test non danno risposte sicure. Bisogna aspettare e mantenere le ragionevoli distanze. L'esperienza di questa epidemia può lasciare un segno nell'ambiente. L'inquinamento è già diminuito, ma può lasciare un segno anche nella gente. Prima la gente era come drogata dall'ingranaggio di produzione e consumo. Lavoro, divertimento, desideri e insoddisfazione. Correre dietro le mode e poi restare delusi. Il tempo che abbiamo consumato in questo ingranaggio è stato un tempo sicuramente rubato all'amicizia, agli affetti, alla lettura, al riflettere su ciò che è importante e ciò che è superfluo o ciò che è inutile. Adesso a molti il tempo cresce e a molti cresce la noia, ma dalla noia possono affiorare sentimenti e soluzioni nuove che non affioravano nella fretta di tutti i giorni. Coraggio! Gravellona si risveglierà più unita, più attenta e più forte di prima. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!